Incontri con le scuole, dibattiti di approfondimento e nel giorno della memoria del prossimo 27 gennaio la posa dei cosiddetti mattoni della memoria, simboli indelebili della Shoah. E' il ricco calendario di iniziative promosse dall'Unitalsi di Margherita di Savoia in collaborazione con l'amministrazione comunale per non dimenticare i milioni di ebrei, soprattutto bambini, vittime dell'olocausto nazista. Anzi, propri bambini saranno il filo conduttore delle giornate di riflessione presentate nel corso di un incontro a Palazzo di Città con i responsabili dell'Unitalsi, il sindaco di Margherita di Savoia Paolo Marrano e componenti dell'amministrazione comunale, oltre al professor Mario Granata, l'artista al quale è stato affidato il compito di realizzare i mattoni della memoria. Noi vogliamo proprio che dentro la città, e in questo devo dire l'amministrazione comunale è stata intelligente ad accogliere e a comprendere che potesse essere importante, la gente passa, cammina, mettere lì dove la gente passa e cammina, non un monumento che quindi si distacca sostanzialmente dalla realtà ordinaria, ma un mattone su cui la gente mette piede, fa parte della nostra storia e questo mattone tu lo guardi e ti ricorda, ti sollecita il ricordo della memoria, il ricordo dell'attenzione, il ricordo della dignità. Credo che sia un fatto importante, che si integra con quella che è la vita quotidiana di tutti, ma a tutti quotidianamente può far pensare. Sarà veramente una bellissima manifestazione, mi auguro con una partecipazione molto importante, significativa, proprio per non scordare questo benedetto giorno, ma soprattutto quante cattiverie, quante sacrifici sono stati fatti da coloro i quali l'hanno subito. La posa dei mattoni della memoria avverrà il 27 gennaio a partire dalle 17, durante un itinerario che partirà dalla sede dell'Unitalsi e giungerà davanti alla sede dell'ex comune dopo aver attraversato le tappe davanti alle scuole elementari a Palazzo di Città. Margherita di Savoia è l'unico comune pugliese che avrà i cosiddetti mattoni della memoria, che richiameranno alla mente le pietre d'inciampo realizzate per la prima volta da uno scultore tedesco e posati a Colonia nel 1995. In Italia sono oltre 50.000 quelle depositate.